Il grande pubblico Paolo Veronese è soprattutto e giustamente noto come il pittore delle mitologie, il pittore della sensualità, il pittore anche di immagini erotiche. Una delle più belle opere di questa categoria, della categoria dei dipinti mitologici, è Il Ratto di Europa, un dipinto che Paolo Veronese ha eseguito ai primi anni 1570 per un grande comitente veneziano, Jacopo Contarini, uno dei più noti e più eroditi, più doti patrizi dell'epoca, comitente anche di Palladio e Bassano. In quest'opera vediamo come Paolo Veronese trasforma una tematica, Il Ratto di Europa, una tematica popolarizzata da Ovidio nelle Metamorfosi, in una specie di scena arcadica, trasformando così la nota poesia di Tiziano con la stessa tematica che Tiziano pochi anni prima aveva realizzato per Filippo II di Spagna. Quest'opera, nella sua magnifica, direi, bellezza, è stato uno dei grandi esempi anche per la pittura del VI e del Settecento in Francia e anche al Trove d'Oltralbe. Fra i capolavori assoluti di Paolo Veronese contano le quattro allegorie d'amore, da ormai più di un secolo conservate alla National Gallery di Londra, e che per la prima volta nella storia dell'illustre museo inglese sono stati dati in prestito a questa nostra prestigiosa mostra. Sono le quattro allegorie che Paolo Veronese ha fatto, ha eseguito per il soffitto di probabilmente una villa o forse un palazzo veneziano o nel Veneto. Non sappiamo nulla sulla provenienza di queste quattro tele che spiccano però per la loro incredibile bellezza, ma anche per la sensualità che emanano. Sono quattro opere di cui adesso noi vediamo soprattutto l'ultimo, che tracciano in un senso esemplare le varie vicende di un rapporto amoroso che poi finisce felicemente nel matrimonio felice, armonioso che si vede nella tela che adesso andiamo a vedere con appunto la coppia di fronte a una figura allegorica che rappresenta la unità, la armonia giusta, buona, che viene governata dalla buona fortuna così importante per l'uomo rinascimentale. C'è una sottile contraddizione, un paradosso nell'opera di Paolo Veronese perché Paolo Veronese per il pubblico è noto soprattutto per il pittore della sensualità, del colore, della gioia. Invece Paolo Veronese è un grande pittore religioso e la religione di solito non viene associato con la sensualità, la mitologia e quant'altro, ovviamente. Ma Paolo Veronese ha vissuto in un'epoca di grandi tensioni religiose. Pensate, la contrariforma, la riforma, la seconda metà del Cinquecento era lacerata da queste circostanze. E in questa sala vediamo alcuni capolavori di Paolo Veronese in cui lui esprime, si esprime e inventa un nuovo linguaggio religioso, a pittore religioso per appunto la spiritualità dei suoi tempi. La fuga in Egitto del Museo Americano di Sarasota è un magnifico esempio. La fuga in Egitto in cui vediamo, presentato con dei colori magnifici, un momento fondamentale della vita di Cristo in cui appunto lui fugge con la famiglia ed è una specie di immagine del pellegrinaggio dell'uomo su questa terra. Verso la fine della carriera, Paolo Veronese, perlomeno nelle sue opere religiose, comincia ad adattare uno stile diverso, un modo di dipingere diverso con una pennellata più liscia e con soprattutto dei colori più drammatici, più monocromi, ma anche più chiaroscurali. Sicuramente questo cambio, sottile ma assolutamente notevole, è legato alle vicende del Consiglio di Trento e quindi della contrariforma. L'esempio più bello, più magnifico è la pala di San Pantalon, pala della chiesa omonima a Venezia, che abbiamo in mostra e che dimostra che raffigura un santo palio cristiano, un santo dell'epoca dei tardi imparatori romani, che è un medico famoso, cerca di risuscitare un ragazzo dato per morto dopo la morsa di una vipera e invece con la conversione fulminante a Dio trova non solo la soluzione appunto del problema del ragazzo, lo fa rivivere, ma poi anche salva la sua anima. Tutto questo in un dipinto di una spettacolare teatralità, di una grande capacità drammatica che già preannuncia il greco e il caravaggio. Nell'ultima sala della mostra abbiamo voluto presentare al pubblico un problema, un problema di storia dell'arte, se volete, però è affascinante, una cosa che interessa a tutti. Paolo Veronese ha vissuto per 60 anni, ma in questi 60 anni ha dipinto un tale numero di dipinti, di opere pittoriche, che è quasi impossibile che lui stesso, proprio di propria mano, avesse dipinto tutte queste opere lui. Dobbiamo presumere che lui ha lavorato con una grande bottega, con assistenti, aiuti. Gli aiuti, soprattutto durante l'ultimo periodo della vita di Paolo Veronese, gli ultimi dieci anni, così folti, pieni di comitenze, di commissioni, l'abbiamo voluto evocare in questa sala. L'opera che vediamo adesso è una pala d'altare con la incoronazione della Vergine con un folto gruppo di santi che Paolo ha realizzato per la Chiesa del Convento Veneziano degli Ogni Santi. Un dipinto estremamente ambizioso, estremamente folto di persone, di personaggi, ingiustamente trascurato dalla critica, che però è uno dei più grandi esempi appunto del modo in cui Paolo Veronese, lavorando allo stesso momento a varie commissioni, Palazzo Ducale, questa pala ed altro, abbia lavorato insieme con i suoi fratelli, con il suo fratello, con la sua famiglia e con altri assistenti. L'enorme tela con la cena in casa di Simone è forse il recupero più spettacolare che abbiamo potuto offrire al pubblico nella mostra e è il dipinto che in un certo senso chiude la mostra. È un dipinto che Paolo Veronese, ma soprattutto i suoi eredi, i cosiddetti Heredes Paoli, eredi di Paolo, hanno, se volete, prodotto per un convento veneziano alla Giudecca. L'ultima cena, le cene di Cristo, sono una specialità di Paolo Veronese che Paolo ha fatto, Paolo e la sua scuola. Il dipinto è stato restaurato, è stato completamente studiato anche in termini tecnici e lì mi piace citare anche il laboratorio Laniac dell'Università di Verona, del nostro Ateneo, che ha avuto un ruolo fondamentale nello studio di questo dipinto, un dipinto che ci fa capire come appunto dopo la morte di Paolo Veronese la bottega continua a lavorare, continua a produrre delle immagini nel suo stile e qui in effetti vediamo alla parte destra un brano di pittura con delle teste, con delle figure che in un certo senso sono ancora molto alla Paolo Veronese, molto alla Paola di San Pantalon che abbiamo appena visto, mentre la parte centrale è stato eseguito chiaramente dopo la morte del maestro avvenuto nel 1588 ha uno stile diverso, qui vediamo gli assistenti al lavoro.